Dalla costa all'entroterra, dagli stabilimenti balneari fino alle campagne, dove secondo Coldiretti la tormenta estiva di luglio nelle Marche ha colpito non solo il raccolto di stagione, ma anche le attività future, dai frutteti agli oliveti alle aziende zootecniche. Tutto questo mentre Confcommercio Marche Centrali si è impegnata con il direttore Massimiliano Polacco per reperire dei fondi utili a far ripartire le attività danneggiate. Il bilancio nelle prime ore successive è di decine e decine di milioni di euro di danni, mentre il governatore Ceriscioli, impegnato nei sopralluoghi, spiega le due fasi, ricognizione dei danni e dichiarazione dello Stato di calamità. In questo momento la priorità è su tutti gli interventi che riguardano l'emergenza. Poi partirà immediatamente dopo la rilevazione dei danni, è iniziare i danni sulle strutture pubbliche finalizzato alla richiesta dello Stato di dichiarazione dello Stato di calamità, che è una richiesta molto significativa in questo caso perché parliamo già a occhio di diversi svariati milioni di euro di danni e se aggiungiamo poi quelli pubblici e quelli privati si va su cifre veramente significative. Presidente, quando si dice tutte nelle Marche dopo il terremoto, ovviamente le calamità succedono ovunque, ma in una stagione turistica abbastanza complessa e complicata come questa, ovviamente pesano ancora di più. Noi scontiamo molto sulla reazione perché questo ci hanno insegnato i tanti eventi che ci sono capitati. Bisogna ovviamente nel momento dell'emergenza mettere la massima attenzione dando priorità all'incolumità delle persone che viene prima di tutto perché quella è la parte che non si può recuperare. Noi immediatamente dopo la reazione, quindi si deve essere la forza di far ripartire il tutto. Accanto alla forza e alla volontà di rialzarsi, tutta marchigiana, c'è anche la solidarietà. I bagnini di Pesaro metteranno a disposizione alcune attrezzature per i colleghi di Numana e Sirolo, particolarmente colpite ieri dalla tempesta che si è abbattuta sulle Marche. L'ho reso noto in un comunicato Marco Pierpaoli, segretario generale di Confartigianato Imprese, Ancona Pesaro Urbino, ricordando che numerosi stabilimenti balneari, tra i circa 50 operanti tra Sirolo e Numana con oltre 6.000 ombrelloni, hanno subito ingenti danni con una spiaggia irriconoscibile.